Tutti parlano di fare la vacanza colta, ma poi alla fine vanno dove c'è, gnocca Sai la gente quando il sole la scotta, come Peter Pan vuole fotterti l'ombra Quando penso agli anni passati, noi così proletari, alto che bali bali Sognavamo bari bari, no, fricchettoni si, racchettoni e gavettoni, no, ombreloni Mani mani neanche per le asciugamani, invece dei castelli con la stabia facevamo case popolari Cosa importa se? Sognavi in Puerto Rico, ma se andiamo insieme, sembra paradiso anche lo scalino Bruccio il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare? Uscire dall'acqua, coperti di sale, mare più profondo, sulla pelle il vento Intorno solo gente che balla, che balla, che balla, intorno solo gente che balla, che balla, che balla Sulla riva letti ricoperti di soffa, musica new e gente che sfoce, sempre dai privi da scambi di coppia Ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza, zippa col bichini in seta, eccitata per il seta, ne da Calcutta o Burtle Un po' la fa un po' la dieta suda, le collo in meca va a fissare il mio panino a non sfer Tra i maschi lo sport più diffuso sulle spiagge ancora, trattenere il fiato, tenere dentro la pancia Lui si porta i libri di cacca, ma poi studia solo il mio culo che passa Cosa importa se? Sognavi in Puerto Rico, ma se andiamo insieme, sembra paradiso anche lo scalino Bruccio il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare? Uscire dall'acqua, coperti di sale N3, un paio di equipaggi ancora in N3 Numero 224, si tratta di Guerra Paolo insieme al Rosato, partì La classe è infinita? Si, 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 si sarà N3, sì Non peraltro partecipiamo in questa classe, perché è guerra di Italia Domani tutto dovrà, anche oggi penso che avete fatto le vostre prove tutto deve essere al top praticamente per affrontare poi una gara importante e impegnativa sì, le prove sono molto impegnative sono diverse da quelle di casa nostra da Gargano insomma sono un po' diversi però cerchiamo di dare il massimo che potiamo possiamo e vediamo come l'altro Gargano sì, abbiamo fatto terredarci un paio di mesi siamo trovati bellissimi anche qui a Pico l'organizzazione è capibile, è fantastica allora, tra il Gargano Guerra, Paolo quindi registriamo anche parecchi nuovi equipaggi che ci vengono trovati grazie a tutti 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 Grazie a tutti